Prima di cominciare il video, se volete ricevere delle criptovalute gratis potete partecipare alla giveaway che stiamo facendo per far crescere il canale. Spiegherò quindi durante in quasi momento in questo video come partecipare, quindi guardate il video fino in fondo e buona fortuna a tutti! Ragazzi, oggi ho tanto di cui parlarvi, non solo parleremo di Bitcoin e cosa aspettarci nel breve termine, inoltre parlerò su cosa dovete essere preparati per stasera perché stiamo per vedere un po' di volatilità per Bitcoin. Vi darò anche un aggiornamento per quanto riguarda XRP, vi darò un aggiornamento su Cardano, abbiamo delle previsioni assurde anche sui prezzi di Bitcoin. Vi piacerebbe se Bitcoin fosse in grado di arrivare a 100 milioni per moneta entro il 2035, quindi 100 milioni per moneta in circa 14 anni, è qualcosa che vi interesserebbe? Bene, ne parlerò, inoltre ragazzi se volete ricevere un NFT gratis di Satoshi Stoker, insomma ascoltate questo video. Benvenuti a tutti, comunque sia ragazzi, il mio nome è Marco, portandovi video riguardo le criptovalute di giorno, mostrandovi come fare soldi in questo tipo di mercato. Se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi e di attivare la campionata delle notifiche. E anche se avete ricevuto un dollaro in questa settimana stiamo facendo beneficenza, quindi se avete la possibilità di donare un po', assicuratevi di donare al vostro ente di beneficenza appunto preferito. E va bene ragazzi, iniziamo subito a parlare di Bitcoin, sta ancora andando di lato in questo momento, voglio dire, non c'è nulla di veramente interessante in questo momento, a parte il fatto che Bitcoin sta davvero rispettando la linea arancione qui a 48.200 dollari. Se ingrandiamo potete vedere che siamo stati supportati, bensì una, due volte, abbiamo fatto questa piccola formazione proprio qui. Quindi siamo andati giù, abbiamo trovato nuovamente supporto e sì, in questo momento siamo al di sopra della linea, quindi voglio dire, Bitcoin sembra piuttosto forte in questo momento, ma zoomando indietro e guardate questo, come sapete tutto ciò che sta tra queste due linee rosse, praticamente solo e pur rumore, se scendiamo sotto i 42.000 stiamo distruggendo la struttura rialzista del mercato, ma se superiamo il livello dei 51.500.000, allora aspettatevi enormi movimenti verso l'altro. Ne parliamo da tanto tempo, quindi non ho intenzione di ripetterlo, ma riducendolo zoom, tutto quanto sembra piuttosto a posto. Abbiamo guardato per esempio anche per quanto riguarda l'Hash Ribbons di Bitcoin, e sembra si stiano abbastanza bene anche l'Hash Ribbons. Abbiamo osservato anche il livello di Fibonacci, ogni volta che scendiamo a livello abbiamo visto che quando andiamo al 1.618 è completamente in linea con quello che abbiamo visto per quanto riguarda il rapporto euro di Fibonacci. Abbiamo visto anche questo rifiuto, quindi tutto stanno ancora secondo i nostri piani, tutto sembra positivo. Sebbene a breve termine potremo avere una certa volatilità diciamo in questa zona, ma tutto sembra andare bene per Bitcoin per adesso. Se non sapete perché Bitcoin sembra rialzista in questo momento, beh allora tornate indietro e guardate i miei video precedenti, perché ne ho approfondito abbastanza. Quindi oggi l'apertura dei mercati tradizionali sarà fondamentale per Bitcoin. Quindi tra circa 8 o 7 ore apriranno alcune, apriranno appunto i mercati e alcune persone diranno che diciamo sarà volatile, che non succederà qualcosa, non succede mai nulla. Ma il fatto è questo, abbiamo chiuso i mercati tradizionali con un'enorme candela verde qui. Se guardiamo domenica scorsa, domenica scorsa era in realtà il 22 di agosto e hanno aperto i mercati diciamo a tarda notte del 22 di agosto. Quindi se per esempio andiamo ad ingrandire, qui potete vedere che abbiamo avuto lo stesso tipo di cose proprio qui, e avevamo le candele verdi e poi una volta che i mercati dei futures si sono aperti proprio qui, abbiamo avuto una continuazione delle candele verdi qui. E sembra abbastanza simile adesso, se apriranno in verde farà qualcosa del genere. Quindi cosa è successo in Bitcoin appunto diciamo il 22 di agosto o comunque sia in quei giorni a tarda notte? Ebbene, questo è fondamentale, stiamo zoomando qui il 22 a tarda notte e questa candela è stata fatta quando abbiamo spinto verso il livello della tasca d'oro di Fibonacci. Questa era una resistenza troppo grande, se non avessimo avuto questa massiccia resistenza qui, beh molto probabilmente saremmo arrivati diciamo qui. Quindi a breve termine dovete essere consapevoli di questo, dovete guardare queste cose perché influenzano il prezzo di Bitcoin. E se vediamo una continuazione che abbiamo visto quando hanno aperto in verde domenica scorsa e hanno continuato a salire qui, quindi aspettatevi anche che Bitcoin faccia una nuova spinta, almeno fino al livello della tasca d'oro di Fibonacci. E certo si aprono in rosso è un'altra storia, quindi dovete agire di conseguenza. E quindi tenete gli occhi aperti, se lo sveglio appunto cercherò anche di aggiornarvi su Twitter. Mentre adesso ragazzi parliamo invece di un altro fatto, parliamo di XRP, abbiamo questa formazione ancora qui. Quindi questa era una bandiera appunto realcista di cui vi ho parlato un po' di tempo fa. E ci stiamo ancora consolidando al suo interno, quindi vedremo se saremo in grado appunto di ottenere un breakout da questa bandiera. E questo sarebbe un bel movimento per XRP di circa, arriveremo a 2 dollari. Vi mostro adesso un'opportunità a breve termine appunto per quanto riguarda anche Cardano. E quindi cosa abbiamo? Bene, qui siamo al di sotto della linea vitale arancione, quindi a 2 dollari 83 centesimi. Siamo ancora al di sotto di esso e la prossima resistenza è a 3 dollari e 40 centesimi. E abbiamo ottenuto il supporto successivo a 2 dollari 31 centesimi. E un'altra cosa a cui dovete prestare attenzione se guardiamo i livelli di supporto a breve termine, ovviamente siamo al di sotto della media dei 50 giorni sul grafico da 4 ore. Qui abbiamo anche la media da 100 giorni a 47 mila e avete anche i 44 mila dollari. E la media mobile da 200 giorni nel grafico orario. E se osserviamo lo stesso nel grafico giornaliero potete vedere che abbiamo la media mobile da 200 giorni qui a 46 mila dollari. Ma abbiamo la media mobile da 50 giorni che si avvicina effettivamente ai 42 mila dollari. Il che significa che appunto se scendiamo qui questo sarà un supporto molto molto forte per Bitcoin. Quindi questo è quello che sto controllando, questo è ciò che dovete guardare e prestare attenzione in questo momento. E prima di passare ad alcune previsioni assurde, se volete iscrivervi e fare trading assicuratevi appunto di usare questi link. Su Femex avete 2000 dollari, avete anche 3610 dollari qui su Bybit e avete anche 2200 dollari in più su Ctrade. Quindi assicuratevi di approfittare di questi proprio qui. E ora andiamo avanti e parliamo invece per quanto riguarda quindi Fidelity che prevede il prezzo di Bitcoin. Tocherà appunto i 100 milioni entro il 2035. Ma è reale? Bene, io per primo vorrei che Bitcoin raggiungesse i 100 milioni di dollari. Bene, questo si basa sul modello stock to flow e questo è qualcosa di cui abbiamo parlato molto sul mio canale. Ma sì, penso che possiamo semplicemente seguire questo ciecamente. Voglio dire, probabilmente non dovreste farlo perché questo è solo un modello e sì, molte cose succederanno nel frattempo. Quindi non scommetterei tutto sul appunto il fatto che Bitcoin andrà a 100 milioni di dollari. E questo ci dice che se vedremo Bitcoin a un milione di dollari qui fondamentalmente nel 2026. Quindi sì, questo si basa su appunto dimezzamenti ma voglio dire quanto è realistico. Bene, Bitcoin non raggiungerà i 100 milioni che appunto vuol dire che la capitalizzazione del mercato dovrebbe essere di 2100 trilioni. La ricchezza totale del mondo intero è di 418 trilioni. Quindi voglio dire, ci vorranno un sacco di soldi per stampare Bitcoin e raggiungere quel livello. Sarebbe bello se fosse così appunto ma questo è qualcosa che dovremmo praticamente prendere per quello che è. E quindi sì, dobbiamo tenetelo a mente. E ora parliamo invece per quanto riguarda un altro fatto. Voglio parlarvi per quanto riguarda il mono degli NFT in generale. Quindi per esempio sapete già appunto che ho un sacco per esempio di Rainicorn in questo momento o per quanto riguarda appunto che appunto è nel mono degli NFT. Quindi sono ottimista per quanto riguarda questa moneta e per quanto riguarda Rainicorn in generale. Ma alcune persone mi hanno chiesto del tipo perché sei ottimista direttamente per quanto riguarda Rainicorn. Il prezzo è andato molto in alto qui di recente. Ma penso che ci sia dell'altro in arrivo e spiegherò perché. Inoltre se avete anche l'opportunità di ottenere un NFT di Satoshi Stoker. Quindi vi racconterò il tutto insomma come ottenere questo NFT. Ma prima di tutto parliamo invece di NFT in generale e non appunto di Satoshi Stoker. Quindi il consiglio di amministrazione di Board APH Club ieri ha rilasciato un nuovo set. Se possiamo chiamarlo set appunto ma fondamentalmente eravate in grado di prendere il vostro Board APH Club NFT e potevate comprare un Serum se c'è appunto Serum. E potreste fare il minting di questi diciamo zombie di Board APH Club. Ora sembrano voglio dire non lo so non sembrano troppo belli specialmente alcuni di questi. Ma a parte il fatto che non mi piacciono molto loro hanno una buona qualità e cose del genere. Naturalmente con l'hypingtona gli NFT e l'hypingtona Board APH Club si sa che avrebbero avuto successo. C'è una NFT mania in questo momento quindi potete vedere che sì questi NFT hanno ancora un diciamo prezzo minimo proprio qui. E fanno cose folli ma parliamo invece per quanto riguarda adesso invece Rainicorn. Allora perché sono ottimista su Rainicorn diciamo perché lo sono? Bene tra un po' rilasceranno il loro gioco di carte con l'attuale clamore in NFT. Penso che avrà un enorme successo. Ora pubblicheranno i pacchetti di carte tra un paio di giorni credo all'inizio di settembre e poi il gioco di carte vede proprio uscirà a novembre. Ma questo è il momento in cui dovreste prepararvi perché hanno effettivamente rilasciato l'NFT in precedenza. Avranno avuto due o tre collezioni e tutte sono state esaurite praticamente in pochi minuti. Quindi c'è una forte domanda di Rainicorn e c'è una grande richiesta per i set di NFT. In effetti se andate su OpenSea potete vedere che il prezzo minimo per alcuni di questi NFT è in realtà piuttosto buono. Voglio dire per esempio abbiamo un prezzo per un NFT di 1.5 Ethereum che non è molto rispetto a Board e PH Club ma dovete anche ricordare che questi sono stati fatti praticamente diciamo gratis. Quindi come funziona quando fate lo staking appunto di Rainicorn per esempio adesso per esempio vado a mostrarvi dovrebbe essere proprio in questa sezione. Comunque guadagnate appunto arcobaleni e anche se avete dato la liquidità guadagnate appunto unicorni e questi sono usati per indicare questi NFT. Quindi in sostanza non vi stanno costando nulla a parte la tassa appunto di minting quando per quanto riguarda le commissioni quando ha fatto un NFT. E sono sicuro che avrebbero potuto rilasciare anche loro per esempio 10.000 pezzi di NFT proprio come stanno facendo molti altri progetti. E non importa quanto siano brutte le carte anche gli scam hanno il loro NFT. E nel frattempo la moneta di Rainicorn è stata costruita in background. Quindi se avessero pubblicato una collezione di 10.000 NFT sono sicuro che sarebbe andata molto molto bene. Ma sono concentrati sulla costruzione del gioco di carte, sono concentrati su queste carte che sembrano assolutamente devo dire comunque sia fantastiche. E il gioco di carte come ho detto uscirà a novembre ma i drop effettivi potete ottenergli una volta che le carte possono essere aperte e avranno appunto i pacchetti di carte. Quindi sarà l'inizio di settembre, inoltre possiamo anche controllare la moneta parallela per esempio a Rainicorn perché c'è una moneta parallela che si chiama appunto Parallel Alpha. Quindi anche questo è un gioco di carte e questo è stato un enorme successo. Potete vedere che il prezzo minimo di queste carte è decente, anche quello di Rainicorn che stanno facendo e stanno implementando il modello di Play to Earn nel gioco di carte. Questo è ciò che ha reso appunto Axie Infinity così popolare come lo ha adesso. Lo avremo anche su Rainicorn, sarà molto bello da vedere e ovviamente un sacco di Rainicorn in questo momento ne ho un sacco perché ci credo e quindi penso che andrà molto bene e mi aspetto che andrà bene e non ci resta appunto che aspettare e vedere. Ragazzi adesso stoppo un attimo il video e vi do le istruzioni per partecipare alla giveaway. L'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e rispondere a questa domanda. Quale pensate sarà il livello di supporto, il prossimo livello di supporto per Bitcoin? Rispondete nei commenti, inoltre inviate anche il vostro indirizzo BSC nei commenti dove volete appunto ricevere le crypto. Adesso continuiamo con il video. Ma insomma penso che ci dovrebbe essere una grande richiesta appunto per quanto riguarda queste carte di Rainicorn perché fondamentalmente diciamo che se confrontiamo per esempio Rainicorn con l'altra moneta parallela appunto con Parallel Alpha e con gli NFT diciamo in generale diciamo che il mercato in generale è molto molto grande e anche se confrontiamo i drops precedenti di Rainicorn queste carte alcune di esse stanno andando molto molto bene quindi è qualcosa a cui dobbiamo essere consapevoli o inoltre ragazzi un'altra cosa il prezzo di Rainicorn è salito proprio qui e ha avuto anche a che fare appunto con per via appunto di questa carta che adesso vi mostrerò quindi questa carta è stata pubblicata su Twitter e qualcuno ha taggato Charles Hoskinson e ha effettivamente rituitato diciamo questa carta quindi la moneta di Rainicorn ha ricevuto molta molta attenzione perché Charles Hoskinson ha rituitato questa carta e hanno anche CV, hanno Vitalik e queste carte sembrano assolutamente fantastiche e credo che vedremo alcune di quelle figure importanti che inizieranno a rituitare anche queste carte quindi questo ovviamente attirerà più attenzione anche sulla moneta di Rainicorn ma vedremo, credo che abbia il potenziale per andare molto bene e se volete mettere appunto le mani su un NFT ecco come fare quindi abbiamo un'edizione limitata appunto di Satoshi Stalker e NFT e voglio fare un enorme ringraziamento a Rainicorn li ho contattati e ho chiesto loro se vorrebbero avere uno stack o un drop di Satoshi e queste sono anche carte che potrete utilizzare nel gioco di carte quindi ovviamente sarà la carta più potente, non lo so se lo sarà ma voglio dire probabilmente sarà piuttosto potente quindi sì, probabilmente vorrete prendere questa carta, quindi vi inserirò il link nella descrizione appunto del video assieme al link per fare beneficenza e appunto ragazzi potete iscrivere direttamente al canale di Telegram di Rainicorn seguiteli su Twitter, compilate questo modulo e siete a posto diciamo, vi terrò aggiornati e credo che sia all'inizio di settembre sorteggeranno diciamo i vincitori appunto di questi NFT, quindi ragazzi assicuratevi di essere coinvolti a riguardo insomma provate a mettere le mani su uno di questi Satoshi Stalker, non vi costa nulla quindi diciamo comunque sì ragazzi grazie mille come sempre per aver guardato questo video, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo